1918 un anno importante per la vita di padre pio e c'è un augurio quest'oggi voglio condividere con tutti voi questo augurio che padre pio fece ad un suo caro amico che abitava proprio qui a qualche chilometro da san giovanni rotondo a don pietro ricci padre pio gli scrive facciamo in modo che il presente anno sia più fertile dello scorso in buone opere già che dobbiamo raddoppiare il coraggio ed innalzare il nostro spirito a dio che deve essere servito con maggiore diligenza in tutto ciò che la nostra vocazione cristiana e sacerdotale ci obbliga questo è l'augurio che faceva padre pio e l'augurio che vogliamo anche condividere noi all'inizio del nuovo anno grazie a tutti grazie a tutti